Globalizzare la carità in tutto il mondo. Con questo spirito si è svolto a Roma il simposio per i 400 anni del carisma vincenziano, una delle iniziative cardine di questo anno giubilare, insieme con il pellegrinaggio del cuore di San Vincenzo de Paoli, l'alleanza globale della famiglia vincenziana per i senza fissa dimora, un progetto che verrà realizzato insieme con la De Paul International per costruire una rete di collaborazione sempre più forte in sostegno dei senza tetto, offrendo loro una possibilità di vita diversa e il Vincenzen Film Festival. Un appuntamento scrupolosamente preparato per condividere l'impegno dei due milioni di membri presenti in oltre 150 paesi, un'opera in favore degli ultimi che trae ispirazione dall'esempio del sacerdote francese che a partire dal 1617 rivoluzionò il modo di fare carità. Con noi padre Thomas Mavrich, superiore generale della congregazione della missione e delle figlie della carità. La conversione di San Vincenzo inizia quando lui stesso si trova di fronte alla povertà interiore e incontra la misericordia di Gesù, che accompagna ciò che fa, le sue opere di carità, in aiuto ai poveri, ai bisognosi, andando sempre dove le necessità erano maggiori. Nel cuore dei membri della numerosa famiglia vincenziana è rimasto impresso l'incontro con Papa Francesco lo scorso 14 ottobre in piazza San Pietro. A tutti il Pontefice ha chiesto di mettere sempre a fuoco tre parole, adorare perché la preghiera è la bussola di ogni giorno, accogliere che significa ridimensionare il proprio io e andare con coraggio sulle strade del mondo per diffondere il messaggio del Vangelo. L'amore è dinamico, esce da sé. Chi ama non sta in poltrona a guardare, aspettando l'avvento di un mondo migliore, ma con entusiasmo e semplicità si alza e va. Il Papa Francesco non si invita ad andare, andare al mondo, andare alle periferie. Papa Francesco ci ha invitato ad andare, andare verso il mondo, verso le periferie materiali, esistenziali, incontrando le persone che si trovano nella necessità di non rinchiuderci in noi stessi, ma di aprirci, di andare. E ha usato le parole di San Vincenzo de Paoli quando ha detto che la nostra missione è andare per tutta la terra, di recarci in tutto il mondo per condividere, per presentare, per essere segno, per condividere l'amore di Gesù. San Vincenzo si aiuti a valorizzare questo Dina Ecclesiale dell'accoglienza, della disponibilità, della comunione, perché nella nostra vita scompaiano ogni asperezza, sdegno, ira, grido e maledicenze con ogni sorta di malignità. Guardando la persona dal di fuori, la si vede con tutte le caratteristiche che percepiscono materialmente i nostri occhi, che vedono la persona sporca, malvestita, un individuo aggressivo, che risponde male e tante altre cose che ci fanno paura. Quindi non cerchiamo di avvicinarci quanto di allontanarcene, di non accoglierlo, di non parlarci, di non avere contatti. Ma la scoperta di Vincenzo nella sua vita è stata che in quella persona, dietro il suo volto, dietro il suo corpo c'era Gesù. E questo è stato il cambiamento radicale che ha reso Vincenzo un mistico, un mistico della carità. San Vincenzo ripeteva, questa è una faccia della medaglia, ma se si gira la medaglia, dall'altro lato si vede Gesù, lì si vede il suo volto. E come San Vincenzo diceva, con le parole diceva, questa è una parte della medaglia, però dà una volta la medaglia, dall'altra parte, allora vanno a vedere a Gesù, allora vanno a vedere il rostro di Gesù. 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 Gesù.